amici del canale buonasera siamo qui con l'oracolo del giorno di giorno 2 di aprile 2022 e andiamo a vedere quali saranno gli avvenimenti di domani come al solito ve lo faccio stasera proprio perché domani cerco di riposare quanto possibile e di dedicarmi poi agli oroscopi così ve li faccio vedere anche insomma per tempo allora come è andata la vostra giornata oggi io ho un po sto un po così per l'ennesima volta anche oggi mi ha rispecchiato ok per l'ennesima volta veramente sono sconcertata credete che ho paura di aprire le carte per per chissà cosa accade domani però è un impegno gli impegni vanno presi almeno che non sto bene come quella volta che mi sono dovuta assentare per per forze maggiori e andiamo a vedere per tutti quelli che guarderanno questo video che cosa accadrà nella giornata di domani 2 aprile 2022 andiamo a chiedere al nostro creatore angeli arcangeli di dirci sempre solo ed esclusivamente la verità come hanno sempre fatto con me in questi lunghissimi anni credetemi sono lunghissimi avevo vi confido una cosa avevo 14 anni la prima volta che mi hanno messo le carte in mano e ne ho 45 tra un po ne faccio 45 non ho vergogna di dire la la mia età è un bellissimo dono stupendo veramente che ha i suoi pro e i suoi contro chiaramente allora quale sarà l'oracolo della giornata di domani 2 aprile 2022 vogliamo sapere tutto 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 quello che ci può accadere domani ok basta ecco ste spade però per carità di dio cioè veramente hanno rotto le faccio più qua perché noto che non le vedete ok questo è un sette di spade beh allora per chi chiaramente oggi è successo qualcosa di magari importante o per chi ha dovuto affrontare determinate cose nella giornata di domani cioè partirà la nostra giornata con decisioni da prendere mille dubbi che abbiamo ma veramente tanti dubbi ma maggior ragione ripeto una decisione da dover prendere ci manca ancora probabilmente ci manca qualcosa ci manca e non non abbiamo il coraggio non siamo ancora decisi nel dover prendere una determinata decisione poi abbiamo il 3 di spade scusatemi un attimo eccomi qua scusate ma era una telefonata importantissima allora dicevamo quindi dubbi di mancanza di riuscire a riuscire a prendere delle decisioni ancora non siamo pronti di dover prendere una una decisione appunto perché ci sono insomma una marea comunque di di dubbi abbiamo il 3 di spade rovesciato che è una carta che ci parla di di litigi di menzogne eventualmente magari separazioni anche può essere pure l'intenzione di qualcuno che vuole farci del male un qualcuno che provoca proprio questi grandi attriti perché in realtà vuole proprio farci del male e come una relazione magari c'è finita e quindi noi abbiamo tanti dubbi se chiudere o meno ma questa persona continua iperterrita potrebbe anche essere un dover stare attenti a chi comunque ci sta intorno qualcuno che magari vuole vuole comunque danneggiarci quindi indica varie cose non non insomma carine abbiamo il 9 di denari rovesciato come vedete che parla comunque sia di un attaccamento una persona attaccata ai beni materiali una persona in questo momento sola cinica proprio nella condizione che sta nella situazione nella condizione che sta vivendo ha proprio fame ok di di soldi e quant'altro ripeto anche questa persona potrebbe essere dannosa per noi una persona che magari decidiamo anche eventualmente di decidiamo no che abbiamo il pensiero comunque sia di doverci allontanare oppure che queste discussioni che stanno andando avanti ci fanno stare comunque lontani separati oppure il 9 di denari rovesciato può anche indicare un lato del nostro carattere un nostro lato che magari sta cercando di andare verso un'altra direzione quindi abbiamo ancora non riusciamo a prendere una decisione abbiamo litigi abbiamo scusatemi dubbi ci sono litigi menzogne che comunque vengono vengono a galla e magari noi stessi che pensiamo di muoverci comunque in un'altra direzione perché questa situazione che stiamo vivendo con queste determinate persone questa determinata persona non ci fa proprio star bene abbiamo un asso di spade rovesciato che parla proprio di gelosia magari aver saputo di essere stati traditi non a livello di tradimento come dico io sempre non parliamo di corna ma possiamo anche parlare di rapporti traditi da persone o da una persona che non ci aspettavamo assolutamente quindi venendo a sapere delle menzogne delle bugie potremmo ecco avere delle problematiche che ci generano proprio ci creano proprio un un blocco e quindi ci mandano ok in in crisi abbiamo un abbiamo in realtà due sette abbiamo un sette di spade a come ultima carta della della stesa me ne sto andando con calma stasera proprio per essere rimanere comunque concentrato quindi un sette un sette di spade che parla appunto cioè delle delusioni che possono essere in qualsiasi ambito maggiormente comunque delusioni familiari la situazione che possiamo vivere domani o intorno a domani nel giorno di domani o nei giorni magari intorno o lo abbiamo magari eventualmente anche già vissuta oggi ok ci ci fa stare per i fatti nostri la situazione o la persona nello specifico tende a farci comunque isolare e ci sentiamo in un certo qual modo comunque abbandonati abbandonati perché ripeto non ci aspettavamo assolutamente una cosa del genere a fondo mazzo abbiamo un sette di coppe rovesciato che parla di guardare in faccia la realtà abbiamo scoperto scopriremo domani o nei giorni ripeto attorno a domani delle cose delle meschinità delle falsità oppure già lo sapevamo e per tempo siamo rimasti comunque sia a fare andare le cose in un determinato modo cioè abbiamo insistito abbiamo portato avanti determinate situazioni che a oggi ok sono diventate comunque troppo pesanti e si è arrivato a un momento di fare la scelta questo è così come vedo ok le carte poi è normale andiamo a fare dei chiarimenti perché come vedete ci possono dire di più ci saranno delle conversazioni spiacevoli dove ecco emergeranno comunque tutte queste cose allora partiamo dall'inizio e qua vi voglio belli carichi vi voglio andiamo a chiedere maggiori informazioni sul 6 di denari rovesciato andiamo a scegliere una carta soltanto per avere più chiarimenti i nostri dubbi i nostri dubbi parlano hanno paura anzi i nostri dubbi la nostra decisione è proprio la paura la paura di di un argomento proprio in questione che stiamo vivendo abbiamo cercato per tempo di ottenere un risultato un risultato che magari non è ancora arrivato del tutto nonostante tutto avete cercato di collaborare con determinate persone per far emergere quello che volevate voi verità o raggiungere magari anche degli obiettivi il potrebbe anche essere il vostro modo di pensare il pensare ai dubbi che avete il pensare a quali decisioni potrebbero essere o potreste eventualmente prendere cosa ok in realtà fare di una determinata situazione o di una determinata persone o persone in generale a fondo mazzo abbiamo il set di bastoni rovesciato che ci parla di appunto un isolamento stare per da soli per i fatti nostri allontanarsi magari da qualcuno della famiglia il nostro pensare non ci porta comunque da nessuna parte è ancora inconcludente ancora povero perché proprio appunto ancora non sappiamo c'è qualcuno che comunque ci ha fatto male c'è qualcuno che veramente ci ha delusi tantissimo ripeto posso parlare di relazione come potete metterla tranquillamente in qualsiasi ambito si è formata una coppia e abbiamo bastoni e spade ci possono essere dei dispiaceri che quindi nella giornata di domani verremo a sapere o un qualcosa che si spezza come vi ho detto nel 3 di spade rovesciato eventualmente un allontanamento come vi ho detto anche col 2 di bastoni che ci può essere appunto un qualcosa che ci fa stare comunque per i fatti nostri andiamo a vedere cosa ha da dirci il 3 di spade rovesciato andiamo a chiedere una carta per avere più chiarimenti e quindi più informazioni sul 3 di spade rovesciato con una carta soltanto ancora spade per carità mamma mia io domani non mi alzo proprio dal letto sinceramente perché se andiamo avanti così stiamo proprio al posto come vi ho detto ci sono ecco delle discussioni delle menzogne per qualcuno di voi delle anche della delle separazioni degli allontanamenti perché appunto c'è una persona nello specifico che probabilmente vuole danneggiarci vuole star farci star male però abbiamo anche il 9 di spade che ci parla ecco di queste di queste notizie queste notizie che ci arriveranno attraverso magari questa discussione attraverso queste 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 situazioni che emergono queste verità magari che che emergono che in realtà vanno ripeto a farci male a fondo mazzo abbiamo e comunque la coppia dei nuove parla di novità quindi sappiamo perfettamente che ci sono delle novità qualcosa ripeto che si viene a sapere il 5 di spade parla di un un dover un dover cambiare direzione perché questo genere di situazione ci ci ha creati un blocco e quindi dobbiamo cercare di vedere come fare per toglierci via da questa situazione che ci fa star male ci fa comunque soffrire andiamo a chiedere più informazioni sul 9 di denari rovesciato quindi chiediamo una carta per avere maggiori chiarimenti allora 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 qui abbiamo il 9 di denari rovesciato come abbiamo detto e c'è un possibile fallimento delle decisioni che sono fondamentali che dobbiamo comunque prendere possiamo avere una mancanza di sicurezza non riusciamo a decidere cosa fare come abbiamo visto all'inizio della carta c'è un 2 di coppe che parla di un qualcosa di falso un litigio nella coppia ma su qualcosa di falso su un qualcosa che non va a buon fine ancora non va a buon fine perché ci possiamo trovare comunque di fronte a una relazione per chi è all'inizio che non porta alcun frutto per chi invece sono anni sono emersi questi litigi che non fanno sbloccare la situazione per poter andare avanti ci possono essere magari più membri che si rapportano con noi in modo falso che stanno mentendo mentendo scusatemi proprio perché vogliono ottenere quello che vogliono e qui mi fermo perché abbiamo la coppia di due di bastoni e due di coppe che ci parla di magari un qualcosa ripeto che veniamo a sapere ancora una volta ci dice magari ho qualcosa di scritto non piacevole o qualcosa che veniamo a sapere di poco piacevole abbiamo anche però la coppia di asso di bastoni e asso di spade asso di bastoni e asso di spade parla di realizzazione potrebbe essere un qualcosa che si va a realizzare no scusatemi ho sbagliato no quello è il coppe bastoni mi sono distratta bastoni e spade ci parla di un magari anche lo stare insieme a qualcuno il desiderare comunque qualcuno ma qualcuno o domani possiamo stare con qualcuno ok ma non di tanto gradito o dobbiamo darci al nostro compagno al nostro partner per forza e non siamo contenti eventualmente di darci questa è la coppia l'asso invece di spade come vi abbiamo come vi abbiamo sì io ho il plurale my studies che non mi tolgo sto vizio non con voi perché lavoro chiaramente in questo modo l'asso di spade come vi dicevo ci crea un blocco quindi la situazione è pesante difficile e ci crea un blocco ci impedisce proprio di andare avanti perché probabilmente la situazione è pesante veniamo a sapere probabilmente delle cose che ci portano comunque a star male e abbiamo a fondo mazzo l'asso di bastoni rovesciato che è proprio una pesantezza una noia per noi è come un senso di apatia che abbiamo dentro perché non ci aspettavamo assolutamente è una come vi ho detto un qualcuno che mente alle nostre spalle o il sapere di un qualcuno che ci potevamo fidare che comunque sia appesantito una determinata situazione ci fa comunque stare male cioè ci rende ci rende apatici e quindi dobbiamo anche prestare molta attenzione andiamo a vedere l'asso di spade che ve l'ho appena detto asso di spade rovesciato andiamo a chiedere una una carta per avere maggiori chiarimenti purtroppo questo dispiacere questo questo dolore ok ci parla di un cioè veramente di inclinazioni in un rapporto con delle persone perché veramente le litigate le discussioni sono state tante forse il caso di riflettere riflettere veramente tanto cercare di capire perché abbiamo determinati dubbi e cercare di capire veramente un determinato tipo di rapporto con qualcuno un amore che qualcuno prova per noi anche se ci sentiamo appesantiti anche se abbiamo dubbi anche se non crediamo più ma dobbiamo veramente valutare i sentimenti di qualcuno e con il 4 di coppe rovesciato chiaramente c'è una mancanza di chiarezza la confusione comunque tanto e c'è tanta disarmonia non riusciremo a vedere anche se vogliamo toglierci questi dubbi non riusciremo a vederci comunque sia tanto chiaro nella nella situazione o magari anche nelle parole che ci vengono comunque dette chiedo una carta in più per avere maggiori informazioni questa la teniamo perché è saltata chiedo una carta in più per avere maggiori informazioni sul 7 di spade ah però ci viene fuori un 3 un 3 di denari rovesciato e dove vi ho messo? e ve lo metto qua è un 3 di coppe rovesciato allora il 7 di spade emotivamente siamo deboli proprio ripeto sempre l'ennesima volta perché le carte mi stanno dicendo comunque le stesse cose per una comunque delusione ok cosa dobbiamo fare di questa delusione? abbiamo un 3 di denari rovesciato potrebbe potrebbe essere proprio una perdita ci può portare eventualmente a pensare di dover tagliare dover comunque perdere qualcosa e forse noi abbiamo fallito perché ci aspettavamo cose diverse non ci aspettavamo quello che verremo a sapere domani o ripeto nei giorni attorno a domani come vi ho detto mi sa che questo ve l'avevo già letto il 2 di bastoni e coppe sì qualcosa di scritto non piacevole però si sono formate delle coppie allora ci è saltato qui il 2 di denari rovesciato il 2 di denari rovesciato parla di documenti, contratti, qualcosa di scritto azioni legali qualcosa che dobbiamo comunque tener conto dobbiamo ripeto anche qua prestare attenzione lavorativi, questioni lavorative, questioni legali